Ciao Dianne, come stai? Scusa, tutto bene? Tutto bene, grazie. Allora, ovviamente tu sai, non è che posso stare qua a dir nomi, no? Io ho parlato, non ho parlato con lui, ovviamente perché non... Io ho parlato al confessionario, automaticamente non ho parlato nella casa. Perché non volevo? Semplicemente le parole, le cose, le persone dicono queste cose qua. Ho appunto confidato al confessionario, se è vero, no, devi dire tu, però è una cosa che io sapevo, io ho detto al confessionario, non ho detto nella casa. Le cose troppo dette. Chiariccio, bisogna prima di portarlo davanti a milioni di telespettatori o davanti comunque in questo modo, così? Bisogna secondo me prima confermarlo, bisogna essere prima certi di una cosa, prima di dirla, perché sono cose che possono far male, in questo momento io sono qui, lo sapevo e non mi ferisce, non mi sfiora, perché io già sapevo tutto, però nel momento in cui io fossi stato non a conoscenza di tutto questo, io sarei stato qui da oggi, fino all'ultimo giorno della mia permanenza a Grande Vatello, una piccola cacchina. Siccome i chiacchiericci fanno male, noi sappiamo che viviamo in questo mondo, secondo me bisogna fare attenzione prima di dire una piccola cosa, sapere se è vera o no.